La polemica riguarda il bando per gli artisti, cioè molti artisti dicono perché non si ripristinano le opere invece di demolirle, di eliminarle? Perché le opere che c'erano erano ormai delle brutture, a parte che erano state vandalizzate, con scritte irricevibili ed immonde. Quindi nel momento in cui abbiamo provato a pulirle chiaramente si andava a distruggere tutto quello che era il disegno che c'era sotto. Abbiamo fatto un avviso pubblico per individuare un soggetto che ci supporti in questa attività e stabiliremo nel momento in cui avremo un interlocutore se dobbiamo fare riferimento a delle attività da fare agli artisti, abbiamo le scuole, abbiamo il basile, abbiamo il sequenza che si sono proposti per farli, abbiamo la possibilità di mettere per esempio foto della città, foto importanti che fanno vedere le bellezze di Messina. Quindi stiamo ragionando su questo, non abbiamo tolto nulla, tant'è che in quelle fermate in cui ancora i disegni fatti, l'opera artistica è ancora valida, è ancora viva, chiaramente non verrà toccata, anzi tutto attorno verrà ripulito perché è giusto che la gente la possa vedere nel suo splendore, anziché sporcata da scritte, da cuoricini o da tante cose che certamente non hanno niente a capire. Forse i vecchi artisti, gli artisti delle vecchie opere volevano essere coinvolti e decidere insieme a voi. Si guardi può essere pure, li possiamo coinvolgere pure ora voglio dire, però certamente non ci si può accusare di andare a ripulire una situazione che era veramente sconce.